Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Le buste da quanto sono piene si sono pure rotte e abbiamo messo un'altra busta Poi c'è questa, questa, poi di qui c'è questa, questa e lì c'è ancora un po' di roba che dobbiamo prendere Dobbiamo svegliarci, dobbiamo incontrare il sacco, dobbiamo aprire gli occhi e dobbiamo farlo adesso, adesso, adesso Dobbiamo spiegare uno migliore e dobbiamo iniziare proprio... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti